salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del calcio al bar oggi stiamo qui insieme per vedere la mia rosa al fantacalcio youtube italia come sapete ho partecipato insieme al buon francesco dei romanisti e vi lascio i canali in descrizione di tutti i partecipanti affinché voi possiate andarli a vedere cari ragazzi seguiteli perché meritano chi parla di calcio chi parla ai fantacalcio c'è anche odoriamola con mirco ragazzo simpaticissimo che parla di profumi andiamo subito a vedere che cosa è successo e come si è sviluppata l'asta all'interno del fantacalcio youtube italia per la mia rosa prima però un bel like per supportare questo video un'iscrizione per non perdere i prossimi contenuti del canale anche un commento dove mi fate sapere che cosa ne pensate inoltre se volete potete commentare con una domanda di sport formula 1 calcio così che io possa prendere le domande che voi mi fate raccoglierle e rispondere attraverso un video apposito vi ricordo inoltre che il mio blog è attivo e vi lascio come sempre il link in descrizione bando alle ciance però partiamo subito con la descrizione della mia rosa per quanto riguarda la porta la strategia è stata questa abbiamo detto con francesco noi dobbiamo prendere una delle prime otto della serie a quindi atalanta fiorentina inter milan juventus napoli roma o lazio e così è stato siamo riusciti anche a risparmiare su quello che avevamo preventivato e cioè 50 quindi un decimo del nostro budget abbiamo preso musso sportiello il secondo ed il primo dell'atalanta a 30 totali e sepe sepe chiaramente a 1 quindi la porta dell'atalanta più il primo della salernitana in una spesa complessiva di 31 questo ha permesso di risparmiare del budget da spendere poi in altri reparti soprattutto sul centrocampo ma non solo per quanto riguarda la difesa qui abbiamo come nostro top bastoni il ragazzo dell'inter abbiamo preso anche l'inter d'armian che si alternerà è vero che però l'inter giocherà le coppie europee è vero anche che l'inter avrà i turni infrasettimanali quindi il suo spazio d'armian lo troverà abbiamo preso i bagnez i bagnez stesso identico discorso per bastoni e per d'armian è vero che si alterna però è vero anche che è un buon giocatore da alternare anche con ferrari per la nostra difesa titolare poi altro inamovibile è birachi lo abbiamo preso a 35 la nostra spesa più esosa che abbiamo fatto proprio per assicurarci il ragazzo della fiorentina per quanto riguarda invece le alternative abbiamo preso che a era poco è vero che chiar viene da un brutto infortunio è vero anche però che chiara è un giocatore di esperienza che non parte quest'anno nelle gerarchie da titolare però è vero anche che il suo spazio tra una partita e l'altra lo troverà stesso identico discorso tra calendario fitto e coppe europee il milan avrà il suo ben da fare e poi abbiamo voluto fare due scommesse la prima mi piaceva davvero molto e cioè kamenovic mi piace tuttora molto un ragazzo della lazio di cui si è poco parlato però al tempo stesso kamenovic è la riserva del terzino sinistro della lazio può anche giocare come centrale di sinistra nella difesa 4 è un ragazzo duttile che quindi secondo me il suo spazio lo troverà e infine anche gatti questa è un po più scommessa rischiosa ed azzardata in quanto gatti è il centrale della juventus che nelle gerarchie parte quarto dietro addirittura rugani ha ben sorpreso nel tre campionato e vediamo quanto spazio troverà questo ragazzo e spesa totale per la nostra difesa è stata di 78 passiamo poi al centro campo qui cari ragazzi abbiamo voluto un po spendere e espandere perché il primo nome piaceva sia a me che a francesco è stata proprio una nostra scelta di cuore cioè lorenzo pellegrini lorenzo pellegrini lo abbiamo preso proprio per il primo sloth per quanto riguarda il secondo che però si può anche considerare come primo quando tornerà abbiamo considerato anche una bella cifra esosa per lui però c'è chiesa dovrebbe tornare anche a metà settembre e da ottobre potrebbe essere pienamente operativo di nuovo però chiaramente si andrà cauti dopo l'infortunio che ha avuto poi che abbiamo preso abbiamo preso eric militaria è vero che si alternerà con Cialanoglu, Barella, Brozovic questi sono i centrocampisti e l'Inter è vero anche che il suo spazio lo troverà e quindi questo è il nostro centrocampo titolare noi abbiamo il modificatore di difesa ed avevamo 500 crediti totali di budget e quindi io personalmente sono molto soddisfatto di questo centrocampo titolare da alternare c'è anche Darko Lazovic il ragazzo del Verona abbiamo preso Brozovic che assicura la titolarità anche lo stesso Vesino il centrocampista della Lazio che non è sicuro di partire sempre dall'inizio però bene o male il suo numero di partite importante dovrebbe farselo e poi Giulio Maggiore indipendentemente da qual è la sua squadra è davvero un ottimo giocatore che porta ogni tanto anche quel bonus inaspettato e poi come ottavo c'è anche Michael Damsgaard sapevamo che andava via al Brentford però che cosa abbiamo pensato se lo prendiamo a uno e nessuno ce lo rilancia chiaramente Damsgaard lo svincoliamo alla prossima asta e riparazione che ci sarà a settembre dopo la fine di agosto e del calcio mercato o d'agosto e quindi noi riprendiamo una buona quotazione alla fine bene o male abbiamo guadagnato spendendo un credito qualche credito in più che ci servirà nel corso della prossima asta in totale per costruire questo centrocampo abbiamo speso 148 il reparto principe del fantacalcio a un certo punto abbiamo preso Zapata lo abbiamo pagato veramente tantissimo 133 perché il buon Michele che ha organizzato l'asta che saluto ancora e ringrazio lo ha rilanciato fino a 133 e noi però alla fine lo abbiamo preso perché era un nostro obiettivo comune perché pensiamo che possa davvero far bene come secondo nome c'è il buon Tammy Abram Abram ce lo avevo qua l'ho fissato in testa cari ragazzi di poterlo prendere al fantacalcio abbiamo speso tra l'altro meno di Zapata cioè 106 e tutto sommato per questi due è una spesa che ci può assolutamente stare magari fate Abram 150 Zapata 100 arrivate più o meno sui 250 da noi spesi poi alla fine ci sono rimasti quattro crediti per puntare su Zapata e Abram purtroppo abbiamo dovuto fare un attacco low cost e quindi abbiamo preso Diuric a 1 il nuovo attaccante della Verona che lo alterneremo come terzo slot anche con Pellegri l'attaccante del Torino che non è sicuro della titolarità e poi come quinto e sesto slot abbiamo preso Bothaim e Zanimacchia Zanimacchia non assicura così tanti bonus ma dovrebbe essere spesso titolare come centrocampista centrale barra seconda punta mentre invece Bothaim di Bothaim si dice un gran bene e poi era ragazzi quello il budget non potevamo fare di più forse ecco per completare questa rosa abbiamo bisogno di qualcosina in più a livello di titolarità in difesa ed anche a centrocampo abbiamo bisogno di un terzo barra quarto slot in attacco e quindi ci sarà proprio la mini asta di settembre dopo la fine del calciomercato cari ragazzi vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci vediamo con il prossimo video del calcio al bar grazie e a presto